Ciao ragazze, oggi è il 2 agosto e è arrivata la Glossy Box di luglio, che è quella con questa scatola qui azzurra, che è bellissima, e terrò sicuramente, e all'interno c'era questo buono sconto di Dottor Taffi, che non so cosa sia, un sconto di 10%, allora vediamo cosa c'è dentro, che figata, e tra l'altro sono qui con Marika, la sorella, no veramente non ce la faccio stasera, la fidanzata di mio cugino, che anche lei ha un blog, e vi lascio il link nell'info box, mi raccomando andate a vedere perché scrivo un sacco di articoli interessanti, allora, fiocchettino azzurro questa volta, vediamo cosa dice qua, Le Grand Bleu, allora blu reale, cobalto, acqua marino o turchese, questo mese celebriamo la nostra edizione Le Grand Bleu, che rappresenta non solo l'ultimo trend della stagione, il colore del mare, ma anche l'inizio delle vacanze estive, che sia al mare o al lago, tuffati con noi verso un profondo blu, abbiamo selezionato i migliori prodotti che potranno farti sentire sempre bella anche durante le tue vacanze, protezioni solari, creme nutrienti e protettive non potranno mancare nel tuo beauty case per questa estate, il massimo di questo mese è una bellezza ispirata al sole e alla freschezza della brezza marina, a luglio fatti guidare da Glossy Box per un viaggio all'insegna del blu marino, buon divertimento con tutti i cosmetici di questo mese e il tuo Glossy Team. E poi all'interno ci sono dei prodotti che probabilmente troverò all'interno, ma come sapete non li guardo, perché non voglio spoilerarmi. La carta è bellissima, con i coralli e le stelle marine, e Mari Cattato sta vedendo i prodotti all'interno e mi fa le facce e io non voglio sapere niente. Aspetta! Allora, ho già visto una cosa che mi piace ma la guardo per ultima. Allora, oh figo, sfigo, sì non si dice figo, su Youtube, vabbè. Uno shampoo riparatore, visto che ho i capelli assolutamente distrutti, shampoo idratante e ristrutturante dopo sole, perfetto, della Gerards, sono 12 ml, scadenza 12 mesi, non ci sono parabeni, sì, e penso proprio sia un campioncino, perché è piccolo, come potete vedere, ma questo sono molto contenta di provarlo perché ho i capelli, sto usando un sacco di shampoo ristrutturanti perché ho i capelli assolutamente danneggiati. Poi, miele biondo, oddio cos'è? Ceretta. No! Che figata! Allora, epilazione professionale, velour arcocere, per tutti i tipi di pelle, ricarica corpo, roll on, praticamente un roll on e vorrei sapere, sì, però vorrei sapere come sono le istruzioni. Lo metti nel portacartucce, lo metti, che non ho, benissimo, bene, me lo dovrei pensare perché poi devo recensirlo. E al miele, boh, proveremo, mi scorticherò la pelle. Poi, un altro campioncino, no, due campioncini, super abbronzante, water resistant, senza filtri, cioè che se lo metto vado al pronto soccorso con la pelle chiara che ho, super monoi gold, con olio di monoi ed argan, anche questo è un campioncino, ha il coniglio, che è contro gli animali, esatto, come si dice? Vabbè, praticamente non testa sugli animali. E poi ha il bioagricert, quindi insomma ci piace. Poi, questo che, ah, non vi ho detto la marca, non la so, ah, è Dr. Taffi, che è quella di cui ho il buono sconto, poi Velluto Vanilla Eau de Parfum, sempre della Dr. Taffi, cioè si sono sprecati questi della Dr. Taffi, due campioncini, vabbè, anche qui ovviamente non testa sugli animali, sempre la stessa marca ovviamente, e boh, sentiremo com'è. Poi, questo che è il Fly High Active Foot Gel, che credo sia un, è scritto in tedesco, Marta, non è Marta, è Marica aiutami! Un attimo, eh. Magari c'è scritto sotto anche in inglese. Sì, c'è scritto in inglese. Ok, lo leggerò in inglese. È un geppere i piedi, immagino. Sì, che ti riattiva la circolazione. Perfetto, anche questo per l'estate non è niente male. È tutto azzurrino ed è della Beauty Bird. E anche questo per l'estate ci sta. Poi, oh, allora, Lip Illusion Lip Liner In Answer, della Model & Co., che è la solita marca di trucchi che inseriscono, cioè praticamente è l'unica marca di trucchi. Tra l'altro, non so, scusate, questo qua, il Fly High, non so se sia, dunque sono 75 ml, scadenza 10 mesi, non so se sia una full size oppure no. Poi, dicevo, questo qua, Model & Co., è una matita labbra con il temperino. Io sono molto contenta perché le matite labbra le uso e questa è una nude e il colore che uso di più. Anche io credevo fosse fucsia perché guardando dietro... Vabbè. Comunque è nude e va bene. Ci piace, anche perché ha il temperino. E poi è molto morbida, sembrava bella. E poi, e poi, e poi, e poi... No! Peccato che è minuscolo. Allora, un campioncino, cioè un mini size di questa marca che io da una vita che voglio provare, che tra l'altro vende QVC, è della Nail Sink, sì, è della Nail Sink di Londra e sono 4 ml, è proprio piccolino, ma è un colore bellissimo estivo, non vedo l'ora di provarlo. E' vero, assomiglia a quello di Chanel. Il pennellino è piccolissimo, però è un bellissimo colore, è proprio bello, bello, bello. E basta, penso. Allora, ricapitolando, due prodotti, due cosmetici, questo full size e questo mini size, che sono curiosa di provare. Poi, il fly eye, che mi interessa molto perché col caldo le gambe poi si gonfiano, eccetera, voglio provare assolutamente anche questo, però non capisco se sia una full size oppure no, però anche a me sembra una full size, sono 75 ml. Poi, uno shampoo riparatore che userò sicuramente perché è ciò di cui ho bisogno, è della Gerard's, che è mini size, cioè un tipo campioncino. Poi, questi due campioncini che non so se userò di... ah, superaordio, sì, di super abbronzante e Eau de Parfum, magari l'Eau de Parfum la uso. E poi la cera, che boh, sono un po' scettica, un po' paura usarla, però vedremo. Diciamo che non è male, allora, forse di questa Glossy Box mi è piaciuto di più il packaging, perché come prodotti all'interno c'è di nuovo uno shampoo riparatore che c'era già nella scorsa Glossy Box, diciamo allora, i tre prodotti che mi sono piaciuti, cioè mi attirano di più sono questi tre, perché lo shampoo riparatore lo uso perché mi serve, però c'era già anche nell'altra, non lo stesso, però di un'altra marca c'era nella scorsa Glossy Box, insomma, basta, ho capito, siamo in estate, però insomma, e boh, questi qua invece sono curiosa di provarli. È una Glossy Box secondo me, ops, è una Glossy Box secondo me un po' a metà, cioè nel senso mi piace abbastanza, ma pensavo meglio vedendo il packaging finissimo. E niente, basta, ci vediamo al prossimo video, ho tantissimi video da farvi e da caricarvi, però non so quando riuscirò a farlo. Ricordatevi di andare a vedere il blog di Marika, io e Marika vi salutiamo. Ciao! Marika, dai, hai parlato fino adesso! Niente, fa no, ciao!